buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di oggi mercoledì 4 di maggio 2016 dunque siete con fano tv in diretta questa è occhio ai giornali buongiorno di nuovo cominciamo subito dal santo del giorno perché oggi un santo torniamo molto indietro nel tempo san floriano di lorch parliamo di un santo della germania del 300 allora di lui possiamo dire semplicemente che è molto popolare in baviera è patrono dell'alta austria del tirolo e della polonia secondo la tradizione da giovane il santo estinse l'incendio di una casa con la preghiera per questo è patrono dei pompieri ed è invocato contro gli incendi e le alluvioni il sole sorto alle 5 54 tramonterà alle 20 e 15 minuti vediamo adesso subito il tempo questa è una cartina che non deve trarci in inganno è una cartina della protezione civile delle marche vedete con la simbologia della pioggia e del sole la pioggia si riferisce alla notte la notte appena trascorsa probabilmente c'è stato era prevista un po di pioggia che poi man mano oggi scivolerà via in mattinata scivolerà via verso il sud della regione per lasciare spazio poi al bel tempo domani giovedì 5 di maggio avremo un cielo nuvoloso durante le ore notturne con copertura in attenuazione però durante la mattinata non si escludono locali e brevi piovaschi durante la notte soprattutto nelle rovesci nelle zone montane durante le ore più calde della della giornata per venerdì invece 6 di maggio ancora un po di cielo perturbato soprattutto a ridosso delle montagne allora adesso andiamo a vedere i giornali cominciamo a leggere le prime pagine dei tre quotidiani che come tutte le mattine prendiamo in esame nella nostra edicola digitale cominciamo dal resto del carlino di pesero questa è la fotonotizia si riferisce a delle auto nuove della polizia che però non hanno la sirena stiamo a pesero e quindi non possono essere utilizzate restano infatti nel garage le auto che sono state acquistate da un mese non hanno la sirena e non possono appunto essere usate il nuovo piazzale divide invece gli albergatori marcucci pinoli dice l'arredo fuori contesto in una zona come quella del mare quel presidente degli albergatori prima era comunque molto peggio quindi insomma non facciamo la lunga assalto la bcc di gradara il cavo però è vuoto banditi sequestrano 13 dipendenti ma restano a bocca asciutta e questa è la prima pagina del resto del carlino andiamo su quella di fano lido e arzilla senza bandiera blu ma la multiservizio era sicura grandi investimenti per i nuovi allacci alle fogne per le due spiagge non è stata nemmeno avanzata la richiesta per ottenere la bandiera blu hanno superato l'esame le spiagge dello chalet del mar dallo chalet fino a fosso sei ore e dal laboratorio di biologia marina fino a ponte sasso tv roli che è l'amministratore delegato di marche multiservizi parla di investimenti di un milione e 200 mila euro per le fognature si tratta di una novantina di allacci di cui l'ottanta per cento sono già stati realizzati ancora dal resto del carlino multe per il 2016 siamo a pesaro più previsioni d'oro più verbali e raffica di ingiunzioni nel bilancio sono ipotizzati nel bilancio del comune di pesaro bilancio di previsione sono stati ipotizzati pensate 3 milioni e 400 mila euro di incassi derivanti dai divieti di sosta se arriva a 5 milioni 840 mila se si sommano gli autovelox e i crediti incagliati mentre per il consultivo del 2015 sanzioni per 2 milioni 975 mila euro riscosso 1 milione 760 mila evasione dunque da record sulla pagina di fanno e valle del cesano vi riproponiamo ancora una volta perché è un po' una notizia se vogliamo anche di servizio che serve ai carabinieri alla procura vi riproponiamo dunque queste tre fotografie si tratta del terzetto che agiva l'abbiamo chiamato l'abbraccio fatale cioè agiva con un modus operandi un po' particolare fingevano di conoscere le vittime vecchi amici grandi abbracci e poi con destrezza riuscivano a derubare portafogli collanine e quant'altro e adesso la procura di pesaro ha diramato le foto di questi tre componenti della banda dell'abbraccio fatale che sono stati arrestati sabato dai carabinieri di mondolfo lo scopo è quello di sollecitare denunce o riconoscimenti per fatti analoghi da parte di altri di altre eventuali vittime quindi se riconoscete questi uno di questi tre o pensate di aver avuto a che fare con uno di questi tre soggetti ecco siete invitati a sporgere denuncia alle forze dell'ordine un pullman a San Costanzo contro un albero scoppia un vetro paura per 50 studenti a bordo carbone di forza italia giovani denuncia tutta colpa della provinciale che porta a fano schianto in moto il centauro quello che guidava la motocicletta con dietro il passeggero che adesso purtroppo è in gravissime condizioni un ventottenne di marotta andrea pierella lo ricordiamo era dietro questo compagno questo compagno che si chiama nicola di lorenzo freschi un trentottenne che guidava questa moto yamaha r1 che si è schiantata ebbene adesso questo ragazzo il conducente non ha riportato nulla se non credo un accosto alla ruota giù di lì insomma mentre il povero ragazzo che stava dietro alla moto adesso probabilmente non camminerà più rimarrà paralizzato per tutta la vita e dunque una tragedia davvero perché è finito i domiciliari per la legge la legge nuova quella quella sul sull'omicidio stradale è stato trovato con un test sulla cocaina positivo addirittura l'alcol e quindi adesso si trova ai domiciliari e lui dice io non ricordo mi ricordo solo di essermi trovato all'ospedale non so se guidavo io la motocicletta però che cosa è successo un carabiniere lo incastra era un carabiniere che insieme a un collega si trovava si trovava in servizio credo al casello di marotta lo ha riconosciuto e lo ha detto al jeep diceva no no l'ho riconosciuto dal giubbotto guidava lui poi andiamo sull'altra pagina sull'altra pagina del cominciamo a leggere gli altri giornali sul messaggero ecco qua Marche Nord questa è un'apertura l'obiettivo Marche Nord pressing del partito democratico l'obiettivo convincere il sindaco di Fano Seri a trovare un'intesa con il collega di Pesaro ospedale unico naturalmente questo l'obiettivo è l'argomento principale per Fosso 6 ore i tempi stringono alla regione restano adesso 90 giorni a centropagina la capitaneria di Pesaro è andata a controllare le due piattaforme a largo delle coste della costa adriatica le due piattaforme brand basil e hanno detto che non sono piattaforme inquinanti verifiche condotte dopo le denunce tv e le interrogazioni parlamentari a Pesaro la via del dragaggio libera il porto dalle barche niente ormeggio nemmeno auto si vuole concludere l'intervento prima che inizi l'estate e adesso l'altra pagina del messaggero dalle Marche ecco qua Ceriscioli va dal ministro del Rio parla anche della Fano Grosseto dice c'è l'impegno dell'Anas per l'apertura la riapertura della galleria della guinza e quindi si spera che questa che questa galleria possa essere riaperta al mare con le ruspe tra i bagnanti sempre il mare di Pesaro i concessionari lamentano ritardi nell'orogazione dei fondi per i ripascimenti e temono interventi a stagione già avviata le spiagge del litorale sono senza sabbia e le ultime mareggiate hanno peggiorato le condizioni degli arenili sulla pagina di Fano invece del messaggero il turismo già sorride grazie ai cantieri e al mare più pulito il vice sindaco Marcheggiani dice mai così ricco il programma degli interventi assemblea con gli operatori balneari in zona sassonia partono le asfaltature per quanto riguarda l'ambiente non c'è solo la riconferma della bandiera blu ma anche l'abbattimento delle sostanze inquinanti trasportate dall'Arzilla sull'ospedale invece verso il corteo tra tensioni e accuse i 5 stelle contro i democratici sinistra unita bacchetta possibile venerdì al Battisti incontro con Cicconi anche qui la pubblicazione delle foto derubavano con l'inganno qualcuno li riconosce e poi sulla scuola Manfrini oggetto di diversi furti numerosi furti negli ultimi mesi ebbene è stata collegata questa scuola alla vigilanza dunque dopo i recenti episodi di furti e vandalismi l'amministrazione fanese ha preferito correre ai ripari poi c'è la corsa allo scranno di procuratore capo di Pesaro dopo per il dopo Palumbo Manfredi Palumbo è il procuratore che c'è attualmente che tra un po' andrà in pensione dunque nella rosa dei magistrati oggi fuori regione come Barberini, Celli e Paci ma anche Renzo di Ascoli o Melotti di Ancona entro la fine dell'anno ci sarà il ricambio infatti ai vertici del Palazzo di Giustizia di Pesaro 26 sono i candidati in lizza una carica nutrita rispetto alle altre città questa è la pagina del messaggero su Marche Nord pressing del PD su Fano come dicevo l'obiettivo è il sindaco Seri deve trovare un'intesa con il collega di Pesaro Ricci ma rinunciando all'ipotesi di Chiaruccia ospedale unico a Fosso Signore i tempi si stringono la regione ha 90 giorni per dichiarare la pubblica utilità del progetto Inso motociclista arrestato dice non solo o meglio sulle verifiche fatte sugli esami fatti sul motociclista non solo coca ma anche alcol restano gravissime le condizioni del 28enne Andrea Piarella il passeggero è rimasto paralizzato fucili puntati terrori in banca ma la banca sbaglia agenzia rapinatori armati minacciano i dipendenti della BCC però la filiale è solo sede amministrativa dunque senza i soldi in cassa Andiamo sull'ultima pagina del Corriere Adriatico questa è la pagina principale anche qui vedete la notizia di cronaca da Gradara armati di fucile assaltano la BCC e poi sotto il terrore nella notte del rogo a Senigallia un incendio distrugge la Union Cosmetics che è l'azienda che lavora per Walt Disney fiamme alte di cindimetri un magazzino completamente divorato dal fuoco quattro scuole chiuse per precauzione anche nella giornata di oggi e un'ordinanza di divieto di balneazione poi ci sono i danni tanti circa 5 milioni di euro e questo il primo bilancio dell'incendio che ha distrutto appunto questa azienda che produce cosmetici a Senigallia poi da Pesero sulla pagina di Pesero lo vedremo tra un attimo tracollo finanziario rischi per il welfare la fondazione Cari Pesero ha perso tre quarti di patrimonio pesante disavanzo nel 2015 poi c'è lo sport nelle pagine interne del Corriere il Granata Ambrosini lancia la sfida alla Vis il Fano è già carico per un derby come sempre molto sentito un derby che si terrà domenica prossima al Benelli di Pesero al derby carichi e consapevoli che una eventuale vittoria potrebbe darci un'ulteriore carica per i playoff così l'attaccante del Fano Alex Ambrosini in vista della sentitissima sfida di domenica prossima al Benelli contro i cugini della Vis Pesero entriamo nelle pagine interne la pagina di Fano del Corriere Adriatico fondo anticrisi insufficiente i sindacati contestano i 50 mila euro destinati dal Comune alle fasce più deboli mentre sul referendum sull'ospedale imbarazzo del PD Bene Comune e i 5 Stelle rispondono al segretario Pucci ma intanto la maggioranza si riunisce per trovare una linea e sotto invece rattoppi alle buche di Piazza Marcolini residenti arrabbiati per l'imperizia dei lavori una colata dicono di bitume che soffoca le piante l'altra pagina del Corriere Adriatico quella di Fano vogliamo organizzare una bella festa parliamo dell'ente carnevalesca l'associazione Carristi respinge il clima di competizione non assaltiamo l'ente ma portiamo idee l'obiettivo è valorizzare i cari allegorici come volano del turismo e torniamo a discutere sul biglietto di ingresso per risistemare un po' le casse finanziarie appunto dell'ente carnevalesca e quando si vota per eleggere il nuovo presidente della carnevalesca si vota il 15 di maggio nella chiesa dell'ex nella ex chiese scusate del suffragio e poi naturalmente vedremo come andrà a finire truffatori seriali un aiuto dalle vittime la procura dà il nulla osta alla pubblicazione dei volti dei tre banditi arrestati a Mondolfo uniti per progettare il futuro i consiglieri di centrodestra Garbatini e Pierangeli spiegano l'appoggio a Silvestrini da Cartoceto invece scuola multimediale con la protezione civile i ragazzi imparano le regole dell'emergenza e sopra da San Lorenzo in campo nessun aumento di tassazione e servizi mantenuti andiamo avanti chiudiamo la rassegna stampa con la pagina delle marche in fumo l'azienda che piace dicevamo a Walt Disney Maxi Rogo distrugge la Union Cosmetics di Senigallia danni per 5 milioni inchiesta della procura sotto prima che a noi abbiamo pensato ai residenti l'imprenditore Colomboni sconsolato davanti alla sua fabbrica divorata dalle fiamme in un anno aveva raddoppiato il suo fatturato e tra gli storici committenti anche Warner Bros Wings Violetta Mascalzone Latino e da ultimo Star Wars e poi la pagina di Pesaro dicevo la fondazione Cari Pesaro tracollo finanziario ecco il bilancio del 2015 svalutazione di 104 milioni 210 quelli che sono finiti in fumo patrimonio ridotto ad un quarto è l'effetto del default di Banca Marche di cui l'ente possedeva il 22,51% di azioni e un prestito subordinato l'esercizio si è chiuso con un disavanzo di 9,5 milioni erogazioni già crollate si impoverisce tutto il territorio e poi sulla pagina di Senigallia naturalmente si torna sulla nuvola che ha creato davvero tanta paura nella giornata di ieri una nuvola si temeva per i fumi tossici sono state chiuse le scuole oggi queste scuole sono rimaste chiuse quattro nella zona di vicino un tappezziere dice la mia attività è stata salvata dal vento di Bora l'allarma invece dopo il bagliore visto da mia figlia e poi guardate l'ultima notizia sempre sulla pagina di Senigallia prima l'alluvione ora l'incendio il 3 maggio è il giorno nero di Senigallia il 3 maggio è un giorno in fausto per Senigallia due anni fa l'alluvione ieri il rogo che ha colpito appunto il quartiere della Cesanella una coincidenza che non è passata inosservata alla vigilia della festa del patrono della città e della diocesi patrono che è San Paolino con questo chiediamo qui la nostra segna stampa grazie per averci seguito buona giornata a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.